Ciao sono William Bisacchi di blogbisacchi.it e in questo video ti voglio parlare di qual è la posizione migliore per il seramento ovvero a filo muro interno dell'abitazione come in questo caso a centro muro, a esterno ecco quando si va a cambiare la posizione vanno a cambiare anche le varie prestazioni del serramento mi viene da sorridere perché spesso vedo dei discorsi dove vanno identificare qual è la posizione migliore del seramento ma in realtà la posizione migliore del seramento non c'è perché ti spiego subito il motivo se io voglio il massimo isolamento termico probabilmente la soluzione più verso l'esterno del muro se abbiamo un muro ad esempio con un isolamento a cappotto sarà quella migliore dal punto di vista termico se invece voglio prediligere il fattore solare sarà meglio mettere la finestra a filo muro interno come in questo caso quindi diametralmente opposta alla risposta a quella che ti ho dato poco fa se voglio un discorso di praticità potrebbe essere a filo muro interno in modo che le ante si aprano tutte a 180 gradi senza andare a sbattere nello spigolo della spalletta come nel caso che la finestra venga montata esterno al muro ma anche qui è molto soggettivo perché uno mi potrebbe obiettare per me la praticità è avere il davanzare libero di poter appoggiare delle cose quindi a quel punto la praticità diventa a filo esterno oppure un altro mi potrebbe dire l'estetica l'estetica può essere bello avere una cornice così perimetrale che mi fa diventare la finestra come un quadro oppure potrebbe essere bello mettere la finestra più all'interno del muro in modo da avere i profili più piccoli perché avrebbero a mancare queste battute perimetrali al seramento e lo stesso seramento si vedrebbe a disposizione più piccoli un effetto più slim come vedi le risposte sono molteplici e possono venire fuori solamente attraverso un'adeguata consulenza inizialmente non si può dire a priori una persona qual è la posizione migliore per una finestra dipende, dipende da quali sono le tue esigenze e quali sono i risultati che vuoi ottenere poi ne aggiungo un'altra a livello di acustica a livello di acustica avere una battuta come in questo caso sul filo muro interno è una garanzia migliore di tenuta ma la battuta potrei ricrearla in maniera magari più ridotta anche montando centro muro quindi il discorso è molto ampio e complesso ti consiglio di lasciare fare il professionista a chi lo è di mestiere affidati al sistema Bisacchi se vuoi una nostra consulenza e vai su www.bisacchi.it metti mi piace al video e segui il canale ciao da William Bisacchi iscriviti al canale